L'induzione è obligata di fare una sottosietto di rete, la sottosietto è una passata. Grazie. 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 Il suo nome è Spagnoletto, un po' di spagnolo, di Rivera, che lavorava molto sui nomi. Qui c'è un painting di Gesù. E poi abbiamo questo. Qual è questo? Qui c'è un painting di Gesù. 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 Grazie.